In qualità, i dirigenti dell'Asle 7 di Carboni avrebbero sovrastimato del 30% un immobile che l'azienda doveva acquistare da una società privata, favorendo così gli imprenditori che avrebbero ottenuto una plusvalenza non dichiarata al fisco. Per questo motivo, le indagini condotte dalla Guardia di Finanza e il Comando Provinciale di Cagliari hanno portato alla Procura del Capologo Sardo ad emettere un provvedimento di sequestro preventivo di beni per un valore di 2 milioni di euro. Destinatari del provvedimento, eseguito dal Nucleo di Polizia Tributaria, due dirigenti dell'Asle 7 di Carboni e quattro amministratori della società che ha ceduto l'immobile che opera in provincia di Cagliari. Tutti gli indagati devono rispondere al reato di peculato, mentre agli amministratori dell'Asle viene contestato anche il reato di aver presentato dichiarazioni per operazioni inesistenti. La condotta dei funzionari pubblici avrebbe cagionato un danno erariale di 1 milione di euro. La Guardia di Finanza a scopo preventivo ha proceduto al sequestro di beni immobili e immobili per 2 milioni di euro, tra questi un fabbricato, 6 terreni e 12 tracconti correnti e titoli. Le indagini delle fiamme gialle sono iniziate due anni fa. Gli approfondimenti sul fronte fiscale della transazione hanno consentito ai militari di accertare che l'allenazione dell'immobile aveva procurato alla società una plusvalenza non dichiarata al fisco per un imponibile di 3 milioni di euro. Gli amministratori della società avrebbero presentato inoltre dichiarazioni fiscali non regolari utilizzando fatture per operazioni inesistenti collegate a una fittizia e sponsorizzazione di una società sportiva dilettantistica di Carbonia.